Allora Matteo Bruscagin è bianco rosso eccoci qui Matteo provieni dalla Venezia presentati ai nostri tifosi ma sì innanzitutto sono molto felice molto orgoglioso di essere di essere qui a Vicenza di essere in una piazza in una società così importante e sì vengo da Venezia come detto è passato gli ultimi due anni e prima ho trascorso cinque anni e mezzo a Latina e sono un difensore posso ricoprire diciamo tutti i ruoli della difesa da terzino magari rendo al meglio quindi sono pronto per questa nuova avventura non vedo l'ora di iniziare il campionato domenica e nonostante tu sia un professionista sei riuscito anche a laurearti in marketing e comunicazione sì 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 mi sono laureato a marzo è un percorso che ho portato avanti negli ultimi anni parallelamente al campo ci ha voluto qualche anno di più del normale per per portarlo a termine però sono sono molto felice di averlo fatto è un completamento un qualcosa che sentivo di potere di dover fare quindi sono sono felice di averlo di averlo terminato ecco come ti trovi in questi primi allenamenti che hai fatto con i compagni ma soprattutto col mister no come dicevo prima l'impatto è molto molto positivo conoscevo già qualche ragazzo che me quindi mi ha aiutato a inserirmi al meglio il mister è un allenatore di qualità di esperienza quindi sicuramente ci darà una grossa mano nell'arco della stagione quindi come impatto sicuramente molto positivo e sono molto felice di essere qui e il pubblico qui c'è una tifoseria tosta beh anche a venezia sì no sicuramente il pubblico qui è un fattore un fattore importante e penso che ci darà una grossa mano nell'arco della stagione ci saranno momenti di alti di bassi quindi sono sicuro che ci staranno vicini che che non ci faranno mai mancare il loro calore il loro sostegno e saranno sicuramente una spinta in più motivo in più per per dare tutto quello che abbiamo per far bene e quindi ti vedremo già a modena ma sono a disposizione poi ripeto sceglierà il mister io ecco sono due giorni che mi sto allenando con la squadra e tre con oggi quindi diciamo che sta andando tutto nel migliore dei modi e mi mancava un po la parte di allenamento sul campo essendo stato a casa in questo mese però la condizione fisica c'è buona quindi sono a disposizione vedrà vedrà il mister apri il tuo tempo alla condivisione dona il tuo sangue e e e e e e e e